onestamente non mi piace parlare delle persone l'ho ridetto più volte bastiamo gli fatti questa persona a Chico Forti è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti nello stato della Florida sentenza ormai passata in giudicato e quindi egli è da considerare rispetto alla legge come un assassino sottolino anche che i verbali del suo processo non possono essere resi pubblici proprio per volontà del Chico Forti stesso che si è sempre dichiarato innocente ma se una persona innocente non avrebbe dovuto appunto avere paura di pubblicare i suoi verbani detto questo quello che mi ha sconvolto è che il presidente del consiglio Giorgia Colmelone si è andato a coglierlo in aeroporto dopo che egli è volato in Italia con un volo di Stato a spese di tutti i contribuenti macchiando così in maniera indelebile la figura del primo ministro ovvero la Giorgia Colmelone è andata a raccogliere e accogliere in aeroporto un assassino lo ripeto un assassino non perché lo dico io ma perché l'ha detto un tribunale della Florida mi chiedo dove si è finito il prestigio del primo ministro italiano tanto vale allora accogliere in aeroporto uno stupratore un trafficante di armi un truffatore è una persona inadatta al suo ruolo lo ripeto e lo ripeterò fino alla fine per quanto riguarda la persona che coforti non mi interessa ricordo che è arrivato in Italia per compiere la sua sentenza fatta da un tribunale americano che ci piaccia o non ci piacciono gli americani a me personalmente mi piacciono in quanto popolo ma non mi piace il governo americano non è un tribunale dell'Iran non è un tribunale dell'Arabia Saudita non è un tribunale russo e quello che vedo è che la comunicazione mainstream sta cercando di far passare in maniera surrettizia l'idea che egli sia innocente su quali basi non si capisce solo per il fatto che lo dica lui vi assicuro che se andate in qualunque carcere italiana qualunque a Napoli a Roma a Torino ed entrate e chiedete a qualunque condannato ma lei è innocente? vi diranno tutti sì non ho fatto niente è un errore è vero mi hanno trovato con la pistola fumante in mano c'era un cadavere con sei colpi ma non sono stato io ci mancherebbe altro è grazie a tutti